Pronto una valanga di ricorsi contro l'ipotesi di delocalizzare il polo chimico nel centro urbano di Genova. Stasera nel TG News l'intervista al presidente del municipio centro-ovest del capoluogo Ligure, Michele Kulnaghi. Ricorreremo al TAR. Rischio paralisi, circa 3 milioni di persone in isolamento, il governo verso l'annullamento o la riduzione della quarantena per i vaccinati con terza dose. Borsa europea in rialzo e per G.P. Morgan Omicron non avrà un impatto significativo sulla ripresa. Petrolo in rialzo e prezzi del gas in discesa. La manovra finanziaria però dalla Camera ha previsto il voto di fiducia probabilmente già domani sera. Stasera Alice Channel Talk, Mezzogiorno e PNRR, i temi trattati da Nicola Porro con esponenti del governo e del mondo Alice.